Ciao a tutti ragazzi, sono RinoMagic e oggi faremo un videotutorial In questo video vi spiegherò come eliminare i rumori dai file audio i rumori di fluscio, ecc in questo caso ho selezionato questo file di farfallio che fa questo brutto rumore adesso lo andremo a eliminare con il programma audacity lo apriamo infatti e importiamo il file con farfallio ok, adesso l'ha importato selezioniamo con il mouse con il tasto sinistro manualmente oppure selezioniamo con il rettangolino per fare prima seleziona tutto basta andare a cliccare il brano selezionare il brano come volete andare su effetti clicchiamo su rimozione rumore e elaboro a profilo rumore in questo modo seleziona capisce come eliminare il rumore questi problemi vengono quando hai microfono non professionale e quindi economico poi ritorniamo a rimozione rumore clicchiamo su ok adesso vi eliminerà tutto il rumore presente nella traccia audio ok infatti adesso l'ha pulito ascoltiamo vediamo che non ci troverà nessuna traccia per esportarlo bisogna cliccare esporta selezionare la qualità del file io seleziono sempre mp3 perché è la più buona come qualità selezionare il nome file pulito salviamo clicchiamo su ok 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 adesso il file è pulito andiamo a sentire ascoltare e non sentiremo nulla perché era solamente file di rumore e il rumore l'ha eliminato quindi il file è inutile perché non sentiremo nulla spero che il video vi sia stato utile mettete mi piace e iscrivetevi al canale ciao e al prossimo video